I ragazzi sono il linguaggio teatrale, loro non lo sanno alle volte, alle volte, a volte lo sanno perfettamente, ma a volte non lo sanno, anzi dicono ma io il teatro, sono timido, in realtà hanno una fantasia sfrenata, ma proprio sfrenata, che è quella che serve al teatro. Il teatro è un luogo dove tutto è possibile, io posso volare su un palco scenico, io posso morire e rinascere su un palco scenico, cosa che ai noi non è data ancora nella vita reale, e i ragazzi hanno una capacità di immaginare cose mondi, oggi poi sono bombardati da informazioni per cui sanno tantissime cose, bene. Il linguaggio teatrale dei ragazzi è, vorrei dire, quasi un simbolo, cioè i ragazzi sono il linguaggio teatrale, e ogni volta che si lavora con loro bisogna guadagnarne la fiducia, perché ovviamente c'è anche una distanza generazionale, per cui ogni tanto gli fa un po' guardigli nei confronti degli adulti, ma poi è come scopertiare il vaso di Pandora, esce di tutto e di più. Grazie 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 Grazie